Perché questa è una festa però ci vedete in vesti diversi, con megafoni, striscioni e a far baldoria però quello che è il significato della PL ve lo racconta ora il nostro leader, ok? Ascoltatelo prima con le orecchie e poi con il cuore Fin da piccolo ho capito cosa fa la differenza in questo gruppo di tifosi PL oltre l'appartenenza e il grande cuore per questo abbiamo deciso da stasera di attivare una raccolta con i perdonare alla città di Livorno un defibrillatore pubblico sempre accessibile anche per questo Livorno siamo noi e si fa cantare o si canta un'altra cosa? perché stasera scusate perché qui il nostro leader lo fa partire lui il grande coro a rispondere eh un giorno all'improvviso un giorno all'improvviso mi innamorai di te mi innamorai di te il cuore mi batteva il cuore mi batteva non chiedermi perché non chiedermi perché di tempo ne è passato di tempo ne è passato ma sono ancora qua ma sono ancora qua ed oggi come allora ed oggi come allora difendo la città difendo la città e allora mi innamorai di te il cuore mi batteva non chiedermi perché Di Capone il passato, ma sola con l'acqua, ma sola con l'acqua, e oggi con l'alora, difendo la città, difendo la città. Un giorno all'improvviso, mi amore di te, il cuore mi batteva, non chiedermi perché, di tempo ne è passato, ma sola con l'acqua, e oggi con l'alora, e oggi con l'alora, difendo la città, difendo la città. Ho avuto un legittimo stop, un applauso di quelli fantastico, emozionati e unici. Uno di noi, 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 allora un attimo.